congresso eucaristico nazionale non siamo soli nelle tempeste così il cardinale angelo bagnasco oggi ha l'adorazione eucaristica al porto antico di genova il santissimo sacramento è arrivato a porto della moto vedetta della guardia costiera in tre anni ha salvato 1500 migranti nel mar mediterraneo oggi le delegazioni presenti al congresso hanno visitato i luoghi storici artistici di genova un percorso alle radici della fede della storia locale l'impronta del crocifisso nel cuore della città pellegrinaggio ieri sera sestri levante con l'immagine del santo cristo riparte da chiavari l'avventura della scuola del fumetto dopo l'apertura ufficiale nella sede di y lab lunedì aprono le iscrizioni nei locali della parrocchia di ribasso cena a favore dei terremotati del centro italia a collaborare negli aiuti anche le altre parrocchie di chiavari quarta giornata di serie b finisce 2 a 2 tra virtus entella e spal bianco celesti in vantaggio di due gol subiscono la rimontalampo dei padroni di casa buonasera a tutti bentornati a tiguglio oggi in apertura il 26esimo congresso eucaristico nazionale di genova oggi giornata centrale con l'arrivo del santissimo sacramento via mare l'eucaristia è arrivata a bordo di una moto vedetta della guardia costiera che in tre anni ha salvato 1500 migranti dal mar mediterraneo non siamo soli nelle tempeste questo il messaggio che ha lasciato il cardinale angelo bagnasco arcivescovo di genova vediamo il primo servizio arriva dal mare il santissimo sacramento sulla prua della moto vedetta che in tre anni ha salvato 1500 migranti nel mar mediterraneo davanti all'altare costruito sull'imbarcazione c'è il vescovo di chiavari monsignor alberto tanasini l'arrivo del santissimo viene accolto dall'applauso dei circa 900 partecipanti al congresso eucaristico nazionale e accolto dal suolo delle sirene dagli spruzzi d'acqua dalle note dell'orchestra del carlo felice la moto vedetta sosta davanti all'acquario di genova per l'adorazione eucaristica il cardinale angelo bagnasco nella sua preghiera spiega che adorare e recuperare la misura delle cose quell'essenziale che conta davvero nel cammino della vita adorare prosegue l'arcivescovo di genova e riconoscere con gioia fino alle lacrime il primato di dio e quindi la verità che siamo piccole creature ma creature amate l'adorazione eucaristica ci consegna ad uno stare alla presenza di colui che ci vuol bene che ci conosce per nome e questo basta sentire che non siamo soli nelle tempeste che siamo importanti per qualcuno che siamo avvolti da un abbraccio d'amore questo basta a rendere buona e giusta la vita nessuno dica non so pregare non so cosa dire la mia fede è troppo povera e distratta prosegue il presidente della CEI a te guardiamo come il naufrago guarda la lanterna che rischiara la notte e vede finalmente il porto verso il quale dirigere il suo andare al termine della preghiera il Santissimo Sacramento è portato in processione dai lavoratori genovesi sino alla cattedrale di San Lorenzo dove attraversa la Porta Santa non finisce qui questa giornata genovese infatti questa sera alle ore 21 in piazza Matteotti si terrà un momento preparato dai giovani per tutti che sarà trasmesso in diretta su Telepace 1 al canale 15 e su Telepace Roma in contemporanea sempre dalle ore 21 l'adorazione eucaristica nella chiesa di San Matteo a Genova in diretta su Telepace 3 al canale 115 oggi pomeriggio si sono svolte le catechesi dei vescovi nelle diverse chiese di Genova incentrate sulle cinque parole uscite dal convegno ecclesiale di Firenze dello scorso anno nella chiesa del Gesù in piazza Matteotti il nostro vescovo Monsignor Alberto Tanasini ha affrontato il tema l'Eucaristia è la via del trasfigurare il servizio la trasfigurazione come anticipo della condizione del risorto nella quale tutto quello che appartiene alla corporalità del Cristo non scompare ma viene coinvolto in una condizione nuova ed è proprio l'Eucaristia che si pone nel cuore di ogni via di trasfigurazione che richiama a portare nel mondo il senso della prova atteggiamento questo che trasfigura il mondo e che porta a respirare un'aria nuova è il cuore della catechesi proposta da Monsignor Alberto Tanasini nella chiesa del Gesù a Genova una delle otto tenute in altrettante chiese del capoluogo Ligure nell'ambito del congresso eucaristico nazionale incentrata proprio sul tema l'Eucaristia e la via del trasfigurare quel piccolo pezzo di pane quel vino nel calice realtà di questa creazione, di questo mondo rimangono specie cioè ciò che appare da questo punto di vista continuano ad essere realtà del mondo eppure non lo sono più hanno cambiato sostanza cioè hanno cambiato ciò che le faceva pane e vino solo realtà materiali e sono il corpo e il sangue di Cristo e allora da parte di Monsignor Tanasini l'invito ad accogliere l'Eucaristia nel palmo della mano durante la comunione ma anche a riscoprire il tempo dell'adorazione e citando un episodio della vita di Santa Madre Teresa di Calcutta la partecipazione alla messa quotidiana il Vescovo di Chiaveri ha poi voluto sottolineare l'importanza della liturgia canto di lode e ringraziamento invito a portare nel mondo l'Eucaristia e i suoi doni portare nel mondo lo spirito di fraternità la trasfigurazione che vince sull'individualismo portare nel mondo la logica del dono la trasfigurazione che vince sull'egoismo portare nel mondo la disponibilità all'accoglienza quella che Cristo ha messo in pratica facciamo ancora un passo indietro la messa questa mattina celebrata nella cattedrale di San Lorenzo è preseduta dal Vescovo di Aversa ieri sera invece al Carlo Felice un omaggio musicale a tutte le delegazioni presenti siamo andati a vedere le giornate del 26esimo congresso eucaristico nazionale entrano nel vivo nel loro svolgimento incalzante è ben presente l'invito che il cardinale Angelo Bagnasco ha rivolto in diverse occasioni a tutti i partecipanti il congresso non è un programma da svolgere diligentemente ma un evento che ci fa incontrare la persona di Gesù nell'Eucaristia il lavoro unitario svolto sin qui ne ha dato testimonianza questa mattina nella cattedrale di San Lorenzo a Genova è stato Monsignor Angelo Spinillo Vescovo di Aversa a sottolineare l'importanza di questo accadimento convocati intorno all'Eucaristia il congresso ci dona di rinnovare in noi quello stupore di cui parlava il Santo Padre Giovanni Paolo II uno stupore che è come un ammirato coinvolgimento di ciascuno di noi nella presenza del Signore Gesù il mistero della presenza di Gesù nell'Eucaristia che si dona per noi è il centro della nostra fede i giorni del congresso sono dunque giorni di grazia in cui con particolare efficacia si mostra il legame indissolubile tra l'Eucaristia e la carità dall'Eucaristia nasce allora un'umanità nuova un'umanità che vive per la presenza del Signore la seconda giornata del congresso è stata proprio caratterizzata dalla visita ai luoghi della carità e si è conclusa con un concerto offerto alle delegazioni dal Teatro Carlo Felice un evento che coinvolge e interpella tutta Genova anche quella istituzionale rappresentata dal sindaco Marco Doria in un momento storico come questo ricordarsi sempre che rispetto della dignità della persona noi dobbiamo vivere ovviamente pensando a tutti gli esseri umani ma sicuramente in particolare perché è la dignità di loro che viene messa in discussione alle persone che sono le più deboli in questo momento storico questo è un messaggio che viene e che amministra molto forte dal Magistero del Santo Padre e da un messaggio che per me è un grandissimo valore grazie e veniamo adesso ai contenuti della misericordia questa mattina infatti le delegazioni hanno potuto visitare la città di Genova accompagnati da guide turistiche i percorsi hanno fatto scoprire alcuni degli edifici sacri e la storia ad essi legata abbiamo seguito l'itinerario di chi dal Porto Antico ha raggiunto la Cattedrale di San Lorenzo vediamo e cosa è stato visto questa mattina in breve? soltanto la chiesa di San Marco al Molo che è l'unica chiesa dedicata a San Marco nel territorio Ligure Genovese scusate e dove appunto i condannati a morte ricevevano l'ultima benedizione poi abbiamo visto il Santuario delle Grazie dove nella cripta è presente la prima chiesa costruita nel territorio genovese perché questa scelta? sì, qui è la zona diciamo del primo insediamento urbano della città vicino al castrum, al castello abbiamo proprio la zona inquinata Genova e in effetti sul Molo Antico che è stato un riempimento del 1100 è stata costruita questa chiesa che era in senatura con le barche a Traccavano e entravano dentro proprio per la preghiera quindi un motivo anche legato alla storia di Genova ma c'è anche un legame forte con il congresso eucaristico perché avendo scelto di svolgere l'adorazione proprio nel porto con la gente affacciata alle banchine che aveva, mi sembra, un senso molto logico il percorrere itinerari che partissero dal mare per arrivare poi al centro, diciamo, religioso della nostra diocesi che è la cattedrale questa chiesa ha anche un forte legame con il lavoro tutti gli altari, cinquecenteschi, seicentessi sono stati costruiti da corporazioni dei lavoratori portuali quindi i calafati, i barcaioli il Santa Barbara quelli che facevano il Santa Barbara delle navi qua c'è il cuore antico anche della fede di Genova sì, in effetti sono anche responsabile del Santuario delle Grazie che è qui a pochi metri dove sono venerati i Santi Nazari e Celso nella cripta di questo santuario probabilmente è uno dei primi insediamenti religiosi dell'intera Liguria domani, domenica 18 settembre giornata conclusiva del 26esimo Congresso Eucaristico Nazionale questi gli appuntamenti per chi volesse partecipare domani dalla Chiesa dei Servi di Genova alle 9 prenderà il via la processione con le confraternite Liguri e le bande musicali che raggiungerà Piazzale Kennedy dove alle 10.30 avrà inizio la Santa Messa conclusiva per quanto riguarda invece le nostre dirette alle 9.30 ci collegheremo in diretta dalla Grotta di Lourdes dei Giardini Vaticani dove sarà celebrata la Messa per il 200esimo anniversario del corpo della Gendarmeria Vaticana Messa preseduta da Papa Francesco al termine alle 10.30 trasmetteremo la Messa conclusiva da Piazzale Kennedy su Telepace 1, canale 15 Telepace 3, canale 115 e anche su Telepace Roma via Satellite adesso andiamo a vedere la prima pagina della Radio Vaticana che riporta due notizie significative di questa giornata intanto il Papa che ha affermato rifugiati crisi umanitaria più grave dal dopoguerra abbiamo parlato di migranti in apertura di telegiornale parlando dell'Eucaristia che è arrivata a Genova proprio via mare questa mattina infatti il Papa ha incontrato i partecipanti ad un incontro promosso dalla Confederazione Europea degli ex-aluni dei Gesuiti e in questa occasione appunto ha detto questa frase i rifugiati rappresentano una crisi umanitaria la più grave appunto dal dopoguerra e poi arriva questa notizia dal Belgio shock in Belgio eutanasia su un bambino è il primo caso al mondo in Belgio è stata effettuata l'eutanasia su un bimbo il Paese ha approvato nel 2014 una legge che consente ai genitori di scegliere la morte per i propri figli malati terminali dopo averne fatto richiesta al medico curante la legge specifica anche che ci vuole un consenso una forma di consenso da parte del minore contro questa legge si erano schierati più o meno tutti ma appunto oggi arriva questa notizia il primo caso appunto nel mondo adesso veniamo sul nostro territorio prosegue la situazione di instabilità meteorologica sul Tiguglio la protezione civile di Genova ha diramato per domani l'allerta gialla per il bacino del Levante Ligure il provvedimento sarà in vigore dalle 8 di domani mattina sino alle 15 di domenica intanto mentre vediamo la grafica la giunta regionale ha individuato 92 comuni liguri a cui saranno consegnati dei pluviometri all'incirca un centinaio in totale per il monitoraggio delle zone a rischio idrogeologico la notizia è stata data oggi dall'assessore Giacomo Giampedrone l'investimento ha un valore di 300 mila euro in provincia di Genova i comuni sono 18 tra questi Avegno Castiglione Chiavarese Coreglia Ligure Leivi Recco Lumarzo Moconesi e Moneglia Dopo l'incontro tra il comune di Santa Margherita Ligure e ATP è stata trovata una soluzione per risolvere il problema sollevato dei residenti del quartiere degli Ulivi penalizzati dal piano di razionalizzazione dell'azienda che prevedeva l'azzeramento dei collegamenti con il quartiere e l'area di Nozzarego nei giorni festivi in pratica sono state attivate una serie di corse per i giorni festivi da e per le zone collinari cittadine ossia il quartiere degli Ulivi Nozzarego e San Lorenzo della Costa Il servizio sarà completamente gratuito per l'utenza Il comune ha deciso infatti di investire circa 5.000 euro per coprire questi sei mesi di servizio La soluzione infatti sarà attiva sino al 31 dicembre 2016 Tre ore di sciopero questa mattina a Carasco per i dipendenti dell'Ipercop che hanno incrociato le braccia dalle 9 alle 12 effettuando un presidio all'esterno della struttura Vedete la foto La manifestazione è stata organizzata spontaneamente per protestare contro il licenziamento di un collega Un provvedimento secondo i lavoratori troppo severo e ingiustificato e che verrà comunque impugnato dalle organizzazioni sindacali Siamo alla pagina religiosa diocesana Nel cuore dell'anno santo della misericordia Sestri Levante ha vissuto un gesto profondo con il pellegrinaggio del Santo Cristo per le vie della città Dopo il momento di preghiera a Velva in giugno il vicariato si è riunito per sostare in preghiera in alcuni luoghi significativi dell'abbimare il servizio È stato soprattutto un pellegrinaggio quello che ha attraversato il centro di Sestri Levante con il Santo Cristo Non un rito non una processione Il desiderio dei sacerdoti del vicariato era quello di far vivere un'esperienza nel cuore del giubileo che mettesse in moto un cambiamento nel cuore dei fedeli Dopo la preghiera in basilica sono stati raggiunti quattro luoghi significativi alternando il canto a momenti di silenzio La baia di Portobello Piazza della Repubblica i giardini Maria Leventre e la spiaggia del Balin Abbiamo pensato alla presenza dei cappuccini e alla mensa dei poveri Abbiamo voluto anche un gesto che richiamasse la misericordia come la vita della normalità nella città Abbiamo pensato ai giardini perché spesso delle persone dormono ai giardini e fanno casa ai giardini e allora abbiamo voluto dire lì la misericordia che accoglie che ospita abbiamo voluto poi sostare in mare per ricordare i profughi che vengono e soprattutto quelli che sono morti in mare Prima del pellegrinaggio il Vescovo è invitato a lasciarsi toccare dallo sguardo del crocifisso che spinge alla ricerca del bene comune nella gratuità e a ricercare la riconciliazione tra le persone Riuscirà a essere il modo di pensare nostro di fronte al crocifisso se no che significare Tato avrebbe portarlo per le vie della città soltanto un gesto bello di tradizione di particolare importanza o un gesto forte un gesto che dà un'impronta Il Santo Cristo ha una storia antica che risale alla vecchia parrocchiale di San Nicolò oggi è ancora al centro della fede dei Sestresi è l'immagine che aiuta a fare esperienza di Dio la gente prega crede attraverso l'immagine di Santo Cristo Vediamo gli altri appuntamenti della festa questa sera alle 21 i primi vespri domani domenica giorno della solennità alle 11 la messa solenne preseduta da Monsignor Gero Marino vicario generale della diocesi e alle 21 i secondi vespri preseduti dal vescovo sempre domani la parrocchia di San Maurizio di Monti a Rapallo festeggerà il patrono in programma alle 11 la messa del parroco Don Emilio Arata nel pomeriggio alle 16.30 l'inaugurazione di fine lavori di regimazione delle acque del piazzale e poi alle 17 la messa solenne preseduta da Don Pio Chung parroco di Rialto a Chiavari seguirà la processione con l'arca del santo patrono cambiamo tema lunedì si aprono le iscrizioni alla scuola chiavarese del fumetto una vera e propria istituzione che dopo anni è tornata a Chiavari e offrirà i suoi corsi nella nuova sede di Y Lab in via Gagliardo siamo stati all'inaugurazione ufficiale è pronta a ripartire con entusiasmo e sognando nuovi progetti è la scuola del fumetto che dopo anni ha rimesso piede a Chiavari nei locali di Y Lab all'ex liceo classico del Pino non soltanto fumetto però ci saranno anche i corsi di illustrazione e fumetto junior nei vari corsi gli orari dipende al pomeriggio o alla sera dipende anche dalle disponibilità degli iscritti sicuramente per quanto riguarda fumetto saranno orientati essendo più giovani al pomeriggio per motivi di scuola e di spostamento per noi di illustrazione almeno in questi anni qua gli allievi sono stati per la maggior parte dai venti in su quindi l'orario che seguiamo noi è quello serale per motivi ovviamente di lavoro quando apriranno le iscrizioni? le iscrizioni aprono lunedì prossimo 19 è possibile iscriversi qua presso la sede della scuola in via Davide Gagliardo 7 ci sarà il direttore Enrico Bertozzi da lunedì al venerdì dalle 15 alle 18 all'inaugurazione ufficiale della sede dei laboratori c'erano diversi artisti che hanno fatto la storia del fumetto in Italia e nel mondo a sottolineare l'importanza della scuola nella formazione dei più giovani l'obiettivo di YLAB inoltre è quello di proseguire la collaborazione nel futuro con altri progetti ad esempio integrando il fumetto con il digitale sicuramente è un grande onore e penso che per noi sia una grande occasione quindi diciamo che oggi è l'inizio e da qua si parte e penso che ci saranno dei progetti che potremo fare insieme e comunque è l'occasione di avere qua tanti giovani e progetti creativi come è stata l'esperienza passata? è stata molto bella molto anche costruttiva abbiamo anche partecipato a dei concorsi di illustrazione quindi diciamo qualche frutto effettivo ne è già ne è già uscito poi ovviamente bisogna lavorare siamo alla cronaca i carabinieri di Santo Stefano Daveto hanno segnalato all'ufficio territoriale del governo uno studente chiavarese di 30 anni residente a Moneglia e una ragazza di 26 anni chiavarese anche lei residente a Moneglia sorpresi a Rezzoaglio in località Parrazzuolo in possesso di 4 spinelli e 5 grammi circa di ascici il tutto è stato sequestrato a Sestri Levante i carabinieri hanno denunciato per guido in stato di alterazione psicofisica per l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope una donna di 53 anni residente a Nè alcuni giorni fa in via San Biagio a Nè era la guida del proprio motociclo ha perso il controllo del mezzo ed è caduta a terra è stata portata al pronto soccorso di Lavagna ed è risultata positiva al test per le sostanze stupefacenti la patente di guida è stata ritirata e infine i carabinieri di Lavagna hanno denunciato per trasporto di armi senza autorizzazione e mancata regolarizzazione sulla denuncia delle armi un 62enne chiavarese residente a Lavagna che è stato trovato in possesso di due pistole due fucili e varie munizioni che non avevano autorizzazione e non erano state regolarizzate dopo il cambio di residenza il meetup 5 stelle di Cogorno ha messo in luce che da oltre un anno e mezzo 360 pannelli fotovoltaici del valore di 100.000 euro sono abbandonati nel piazzale dell'impianto sportivo San Martino i pannelli ricevuti dal comune nel marzo 2015 li vedete in questa foto se installati avrebbero prodotto un guadagno di oltre 30.000 euro l'anno ripagando in poco tempo il denaro speso i 5 stelle di Cogorno domandano al sindaco Sommariva e all'amministrazione comunale di rimediare al danno impiegandoli al più presto si legge nel comunicato il comitato festa in piazza e le parrocchie di Chiavari hanno organizzato una cena solidale a favore delle popolazioni del centro Italia colpite dal terremoto l'incasso andrà a favore di un progetto di ristrutturazione la serata è sul piazzale davanti alla chiesa di Ribasso oppure nei locali interni a seconda del tempo l'inizio proprio in questi minuti dunque chi fosse interessato può ancora partecipare allora vediamo l'intervista di presentazione tutto è pronto per la matriciana stiamo preparando stiamo preparando noi ma bisogna dire che in questi giorni hanno preparato anche varie realtà proprio della città perché la prima cosa che noi vogliamo dire è che quando siamo partiti con l'idea di organizzare questa matriciana è partita anche proprio la solidarietà di tutta la città tanti commercianti hanno voluto collaborare per cui potremmo dire che buona parte l'80% delle materie prime che useremo stasera sono state offerte proprio dai commercianti o chi non aveva proprio la materia prima da offrire ha offerto una cifra con la quale noi abbiamo potuto comprare quindi questa è stata anche una cosa molto bella vedere proprio la partecipazione di tutti dentro e fuori soprattutto fuori speriamo del tempo dentro e fuori sicuramente perché confidiamo nell'arrivo di parecchie persone quindi lo spazio dentro non sarà cioè non dovrebbe essere sufficiente sicuramente se il tempo non dovesse aiutarci dentro ci sarà posto per tutti magari con un po' più di rotazione non c'è bisogno di prenotazione basta passare qua esatto basta arrivare buona appertura a tutti coloro che volano aiutarci e aiutare soprattutto a realizzare questo scopo noi poi cercheremo di trovare una realtà precisa qui appunto puoi fare devolvere questi soldi vorremmo trovare un progetto in collaborazione con la Caritas a cui devolvere queste cifre che raccoglieremo e restiamo in tema perché oltre 12 mila euro sono stati raccolti per i terremotati a Sestri Levante nel corso di due cene a base di Amatriciana e di prodotti locali che si sono svolte domenica 4 a Santo Stefano del Ponte e venerdì 9 settembre in piazza Matteotti il comune ringrazia tutti coloro che si sono impegnati nell'organizzazione nel corso del mese saranno organizzate altre due cene la cui data è in corso di definizione e sarà comunicata il prima possibile una giornata a sostegno di telepace organizzata per domani domenica 18 settembre a Leivi a compimento delle iniziative estive nel complesso sportivo di San Bartolomeo si potrà pranzare e partecipare ad un pomeriggio di intrattenimento con un'orchestra l'appuntamento lo dicevamo con inizio alle 12.30 l'apertura degli stand gastronomici e a seguire il pomeriggio danzante le offerte saranno devolute alla nostra emittente ora sfogliamo insieme l'agenda di telepace e vediamo così tutti gli appuntamenti in programma per domani appuntamenti in agenda per domenica 18 settembre torna sui sentieri di Leivi la Mangialonga appuntamento alle 8.30 al campo sportivo di San Bartolomeo l'iniziativa è a cura dell'associazione SP32 dal consorzio agricolo Golfo del Tiguglio e da Auto Moto Retro laboratori per bambini all'interno dei parchi di Nervi a Genova le attività inizieranno alle 9.30 nei locali di Villa Grimaldi Fassio seconda edizione dei mestieri antichi e moderni nei Caruggi a Favale di Malvero la manifestazione inizierà alle 11 nei Caruggi del Borgo premiazione del concorso nazionale di narrativa i sentieri a Sestri Levante appuntamento alle 16 a Villa Rovereto dove il cantautore Bubi Senarega intratterà tutti con la canzone di Sant'Andrea nell'ambito di suoni dal mondo siderà all'auditorium delle scuole medie di Santa Margherita Ligure alle 21.30 il terzo dei quattro itinerari sonori protagonista della serata è il gruppo Carlo a Onzo Trio che propone un viaggio musicale con il mandolino primo round per Chiavari oggi a mezzogiorno in famiglia la trasmissione in diretta di Rai 2 in onda al mattino chiamata a sfidare il comune di Capaccio Pestum in provincia di Salerno che per un solo punto vede in vantaggio la squadra avversaria dunque c'era una squadra chiavarese negli studi della Rai guidata dal direttore di Radio Aldebaran Salvo Agosta ma c'era un'altra in piazza Matteotti a Chiavari dove c'erano le telecamere della Rai vedete le immagini perché anche qui ci sono stati collegamenti con l'inviata Elena Ballerini i comuni partecipano ad un torneo e nella piazza chiavarese c'è stato modo anche di poter portare nelle case di tutta Italia le peculiarità enogastronomiche artistiche e culturali della nostra città dicevamo questo torneo consentirà di vincere nell'ultima puntata che andrà in onda domani domenica 18 settembre permetterà di vincere uno scuolabus il premio sarà riservato agli studenti delle proprie scuole materne ed elementari Luciano Canepa è il nuovo vicepresidente della Croce Verde chiavarese la nomina è avvenuta nella giornata di ieri Canepa va a colmare il vuoto lasciato dalla recente scomparsa del dottor Giulio Massa il cui posto in consiglio è stato preso invece da Nicola Chiartelli il consiglio di amministrazione della pubblica assistenza ha deciso inoltre la costituzione della delegazione di Rezzo Aglio con la nomina di Liliana Minetti come responsabile e siamo così alla pagina dello sport la Virtus Entella porta a casa un punto prezioso nella trasferta allo stadio Mazza di Ferrara contro la Spal neopromossa finisce 2 a 2 succede tutto nel primo tempo Bianco Celesti avanti già al settimo minuto con Michele Pellizzer che colpisce due volte su un calcio d'angolo di Cutolo prima di testa ribattuto quindi con i piedi battendo il portiere avversario il raddoppio arriva con Francesco Caputo al 32esimo Cutolo ruba palla e va in contropiede fin dentro l'area di rigore serve Caputo che non sbaglia e insacca stiamo vedendo le immagini i festeggiamenti però purtroppo durano poco la Spala accorcia le distanze al 38esimo con Gianni che infila sul primo palo dopo un calcio d'angolo avete visto la realizzazione soltanto un minuto dopo i padroni di casa pareggiano la rete è di Schiattarella che dal limite in diagonale colpisce nell'angolino basso secondo tempo poi combattuto da entrambe le parti tuttavia senza risultato la Virtus Entella perde Simone Palermo espulso al 53esimo per doppia ammunizione la squadra di Mister Breda è riuscita comunque a trovare compattezza chiudendo ogni varco e gestendo come possibile il possesso palla in classifica Chiavaresi undicesimi a 5 punti a Rapallo nella palestra di Via Don Minzoni si svolgerà domani l'Alcione Basket Day appuntamento alle 10 del mattino e sino alla sera con le gare la società ha anche organizzato pranzo e cena sul campo alle 19 ci sarà la cerimonia di premiazione e la presentazione al pubblico delle prime squadre dell'Alcione Basket e questa mattina Sesti Levante è stata presentata la terza edizione dell'Anderser Run per il secondo anno consecutivo sarà proposta anche la mezza maratona l'iniziativa sarà su due giorni sabato primo ottobre si terrà la gara non competitiva trail run con partenza alle 15 dal parco Mandela intanto vediamo le foto della conferenza stampa di questa mattina il percorso di 8 km toccherà la collina della Mandrella e poi il rientro al parco domenica 2 ottobre su tre tracciati di gara si svolgeranno la mezza tra le baie una mezza maratona di 21 km le 7 miglia da favola sullo stesso percorso e la family run aperta a tutti e concludiamo con la bella notizia che arriva dalle Paralimpiadi di Rio de Janeiro Vittorio Podestà a Chiavarese infatti porta a casa un'altra medaglia ad oro questa volta nella competizione a squadre insieme a Zanardi e a Mazzone dunque un'altra medaglia ad oro per l'atleta chiavarese campione di handbike che migliora le prestazioni delle Paralimpiadi di Londra 2012 con questa notizia si conclude il nostro telegiornale grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata arrivederci grazie per aver guardato